Archiviata la sfortunata sconfitta maturata contro l'Atalanta per il Bologna, da oggi è tempo di pensare alla trasferta di Verona alle 15 contro il Chievo. Peraltro è l'ultimo campo dove abbiamo vinto fuori casa, l'abbiamo detto tante volte, speriamo che in vista di domenica questo sia di buon auspicio. È la settimana nella quale mister Inzaghi dovrà verificare i progressi di Federico Mattiello che ferma ormai da tre settimane e che vedremo se nei prossimi giorni potrà reaggregarsi al gruppo. Oggi la squadra è divisa in due, chi ha giocato di più contro l'Atalanta svolge un certo tipo di lavoro, gli altri sono già sul campo per approfondire la marcia di avvicinamento che ci porterà a Chievo-Bologna per la quale sono già in vendita i biglietti. Il Chievo annuncia anche una promozione particolare, gli under 18, i minorenni entreranno gratis domenica al Bentegodi.